Mercoledì 13 novembre si svolgerà a Teramo un consiglio comunale straordinario sulle scuole chiesto dall'opposizione. Intanto il consigliere comunale di Futuroin, Franco Fracassa, ha fatto un accesso agli atti per chiarire i motivi per i quali l'amministrazione comunale dei 90 milioni disponibili per la messa in sicurezza degli edifici scolastici ha speso per ora solo 350 mila euro. Di tutti i denari che sono stati messi a disposizione al comune di Teramo che la stazione appaltante sono stati spesi solo 350 mila euro che è la famosa scuola di Villa Ripa dove all'incirca ci saranno dai 15 ai 16 alunni. Quindi abbiamo messo in sicurezza la scuola che praticamente non contiene alunni. Questo ritardo lo stiamo pagando e lo pagheremo anche nei prossimi anni consideri che l'unica scuola che è stata data in appalto alla San Giuseppe che avete già documentato con l'arrivo dell'impresa ieri se non erro occorre almeno dai 3 anni ai 3 anni e mezzo quindi figuriamoci tutte le altre scuole. Noi fra 30 anni saremo ancora qui a parlare, a fare l'intervista qui in questo punto e a parlare ancora delle scuole. Alla luce di quello che è successo al Delfico, voi cosa temete per le scuole di proprietà del comune di Teramo? Se eventualmente l'esposto fatto in procura e la procura dovesse intervenire con lo stesso sistema che è adottato al Delfico io non so immaginare quello che succederà. Gli allunni studieranno a casa e questo è quello che purtroppo si può verificare. Sono tutte situazioni che vanno chiarite però il 13 saremo lì attenti a parlare di questo argomento sperando che ognuno di noi si prenda le proprie responsabilità a cominciare dal sindaco che possa dire finalmente che ha sbagliato.